Buongiorno a tutti, so benissimo che questo video creerà un vespaione di polemica, però voglio dire la mia, perché tante persone si stanno lamentando che è quattro ore di cuda per fare il tampone. Allora, sono andato a curiosare i nostri mediconsoli, quelli che sono su, che ci danno i consigli su cosa fare, cosa non fare, eccetera. Dicevano che devi avere un minimo di patologia, se c'hai la patologia o sei frequentato qualcuno col covid, devi chiamare il medico, il medico ti fa avere la ricettina per andare a fare il tampone, vai a fare il tampone, ma se è solo una questione per essere sicuro di poter andare, se sei vaccinato, che problema c'è? Hanno detto che hanno vaccinato l'85% degli italiani, più o meno, circa quasi, ci sono un 15% di refrattari, che giustamente, cioè io rispetto, però io cerco sempre di diversificare quelli che il medico gli ha detto, come Heller per esempio, che i medici gli hanno detto, signorina, guardi che anzi signora, perché è sposata da più di dieci anni, guardi che lei, essendo soggetta a rischio, eccetera, eccetera, facendo tutte le medicine che prende, con il suo problema, che purtroppo deve sopportare forever and ever, il fare il vaccino potrebbe essere rischioso e giustamente lei non l'ha fatta. E lì c'è il massimo rispetto, cioè se lo stesso medico ti dice, guarda che con tutti i tuoi problemi il vaccino potrebbe farti una beata Giovanna, potrebbe, lo spiegava lei, però poi ci sono quelli che, no ma me l'ha detto il farmacista, me l'ha detto, allora il mio farmacista, il mio amico farmacista che si è laureato un annetto fa, quindi è anche fresco di laurea, quindi è, conosce anche le news per intenderci, mi ha detto un annetto e mezzo, adesso non lo ricordo esattamente, però si è laureato da poco e sta lavorando in farmacia, non mi ha detto proprio, mi ha detto Gigi, ti dico subito una cosa, mi sa che la mascherina la metteremo forever, non pensare che nel 2022 smetteremo di emettere la mascherina, è probabile che tutto il 2022 avremo ancora la mascherina ed è probabile che magari anche nel 2023 avremo ancora la mascherina, come nel 2024, fino al 2000, fino a che crepiamo, quando chissà quando, quindi vedete che però c'è persone che... Poi ho scoperto perché questo personaggio, lui si doveva sparare un bel po' di strada per andare a lavorare, non ha fatto il vaccino, ha deciso di non fare il vaccino, adesso lavora bello tranquillo in smart working a casa, bello, felice e contento, anche perché o lavoravano a casa o lo lasciavano a casa, siccome per sua fortuna si vede che questo personaggio di cui non faccio il nome è bello, felice e contento, cioè è abbastanza importante per l'azienda, quindi non possono farne a meno, svolge un lavoro che può fare anche da casa tranquillamente ed è utile, gli ha detto stai pure a casa, lavora da casa e lui si evita le levatacce, poi va bene la sua decisione perché gliel'ha detto il farmacista, il mio farmacista, cioè il mio farmacista, la mia farmacista non gliel'ho chiesto, ma il mio amico che è farmacista neolaureato mi ha detto Gigi guarda che mi sa che è lui il vaccino, l'ha fatto senza nessun problema, sta benissimo, stanno benissimo tutti, anche il mio amico che anche lui un po' di problemi ce li ha, eccetera, ha già fatto la terza dose, l'altra sera erano belli, felici e contenti a mangiarci la nostra pizza, quindi quando leggo devo fare, avete fatto una scelta, io rispetto tutti, però quando, a parte la leggevo, perché sono andato a curiosare, se vai alla Asla, al drive-in dell'Asla, al drive-in, già lì mi viene da ria al drive-in, io al drive-in mi ricordo, drive, drive, drive-in, 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 e c'era Ezio Greggio, Gianfranco D'Angelo, le ragazze del drive-in, le bonelle del drive-in, eccetera, 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 quello era il drive-in, o sennò il drive-in che andavi a vedere nel cinema, non che vai al drive-in per farti fare il tampone, ma vabbè, e lì però ci vuole tempo, eccetera, è gratuito, però devi prenotarti, poi ti dicono, deve fare il tampone, lo fa a marzo, e ho capito, a marzo non mi serve più, mi serve adesso, se vai in farmacia sono 15 euro per i maggiorenni, 8 euro per i minorenni, se lo fai tramite quelli privati, sono botte da 60 euro, che ti viene da dire, la madonna, però il guaio è che lo vanno a fare anche quelli che hanno fatto il vaccino, per essere tranquilli, che magari non sono portatori sani, però ti dicono, devi avere più di 37 e mezzo di febbre, è già lì, io il raffreddore ce l'ho tutto l'anno, io c'ero a 13 mesi all'anno al raffreddore da quando sono nato, perché sono allergico, ho la mia allergia malefica, eccetera, e poi come la temperatura va sotto i 5 gradi, io mi decongestiono, come si diceva, mi ricongestiono quello che è, e quindi il raffreddorino mi viene sempre, però non ho dei mal di gola, non ho la febbre, non ho niente, l'altro giorno mi ha dato il vaccino la mia amica, sta benissimo, ed ero più raffreddato di adesso, ha fatto il suo bel capodanno, stava benissimo, quindi, però io il vaccino l'ho fatto, ho fatto anche il broncomunale, per esempio, io il vaccino antinfluenzale, io e mia mamma non l'abbiamo mai fatto, la nostra dottoressa, che ha il medico cardiologo, il suo marito è cardiologo, ed era il cardiologo di mia mamma, è quello che mi odia quando ha visto i miei esami che ho fatto, quelli generali, il check-in completo, era lì che mi odiava, perché siamo coetanei, e circa dieci anni fa, mi ha detto, ti odio, perché tu hai minimo dieci anni meno della tua età, come fisico, e quindi ho goduto come un porcello, quindi ragazzoli ci disse, non fate il vaccino, vi diamo il broncomunale, io, il broncomunale, lo faccio da trent'anni oramai, il primo anno che ho fatto il broncomunale, ho partecipato al torneo degli avvocati, ero il bonus, chiamiamolo così, l'estra della squadra, visto che sono ragionieri, gli altri erano tutti laureati in giurisprudenza, eccetera, o anche già laureati in giurisprudenza, e abbiamo fatto questo torneo degli avvocati, tra l'altro sul campo del Milan alla Beretti, quindi ero anche dal nemico, e ho giocato a calcio da ottobre fino a metà dicembre, sotto l'acqua, al freddo, in porta, quindi ero fermo, si, svolazzavo a destra e a sinistra, ma ero fermo a prendermi l'acqua, a prendere il freddo, e mi sono ammalato. Io di solito, gli anni precedenti, andavo a giocare a calcio, a ottobre, novembre, così, nei campetti di periferia, per intenderci, non certo a un campo come la Beretti, che è il campo proprio di calcio a cinque, con l'arbitro, il torneo serio, e avevamo anche l'arbitro, arbitro ufficiale, che lo pagavamo, tutte le due squadre, mettevano quel qualcosa in più, oltre al campo c'era da pagare anche l'arbitro, alla pari tutti, quindi erano arbitri bravi, devo dire, ce n'era uno molto molto bravo, soprattutto, che penso avrà fatto anche carriera, perché era bravo, era sempre attento all'azione, sempre preciso, gli facevamo sempre i complimenti a fine partita, la dottoressa mi ha dato il bronco comunale, abbiamo fatto il bronco comunale, io ascolterei sempre il medico, però ognuno faccia quello che vuole, ci mancherebbe, io ho il rispetto di tutti, però quando sento la gente che fa una, prende una decisione, e poi ha problemi, per quella decisione che ha preso, e rompe i coglioni, e ragazzi miei, cioè, chi è causa della sua manca? Da se stesso, hai preso una decisione che io rispetto, ma sai benissimo che questa decisione comporta anche delle rotture di balle, il guaio è che è quella che è sbagliata, è quella del 10 di gennaio, che hanno deciso dal 10 di gennaio, i tamponi non sono più validi, se vuoi andare a lavorare devi essere vaccinato, e lì, secondo me, farei una distinta, tra quelli, che decidono di non vaccinarsi per partito preso, perché hanno deciso loro, perché hanno sentito il farmacista, il picco pallino, eccetera, e non il loro medico di base, o chi per esso, che teoricamente ne dovrebbe sapere di più, e quelli che purtroppo, il loro medico di base, gli ha detto, guarda che, sei a rischio con il vaccino, non ti garantisco nulla, potrebbe non farti nulla, ma potresti stare male, perché tu hai, queste problematiche qui, che, interagendo con il vaccino, potrebbero aggravarsi di più, e allora ci sta, e lì dovrebbero fare una deroga, e permettergli di fare il tampone, viceversa, per gli altri, è una loro scelta, liberissimi di non fare il tampone, cioè di non fare il vaccino, e quindi, però, siccome siamo in un, fortunatamente, o sfortunatamente, siamo in un paese democratico, si fa per dire, tanto, vi consiglio quel film lì, Massacro al Central College, che vi dimostra, che qualsiasi tipo di, governo ci sia, è sbagliato, che sia democratico, che sia un regime, che sia, una monarchia, che sia quello che volete, un'oligarchia, qualsiasi, è sbagliato, non va bene, per qualche, per vari motivi, e in questo film, che è appunto, Massacro al Central College, succede, proprio, di vedere, all'interno di una scuola, cambiare le varie tipologie, di, tra virgolette, governo, e vedere, che comunque, qualsiasi sia, è sbagliata, e alla fine, non vi dico niente, perché se no, vi spoilerò il film, guardate, un massacro al Central College, uno si spaventano, oddio, massacro, non c'è nessun massacro, però succedono, delle determinate cose, che vi fanno vedere, cosa c'era prima, cosa, dopo che è, cosa succede dopo, e le cose, non cambiano lo stesso, che ci sia una, una, un, va, 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 e c'è proprio questo, all'interno, della storia, appunto, di, questo ragazzo, che arriva in questa scuola, eccetera, 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 quindi, se uno, decide così, io credo che, debba essere, dargli la possibilità, di farsi il suo bel tampone, dire, sono negativo, non sono rischioso, però è logico, che se ci metti, quattro ore, devi farlo tutti i giorni, il tampone, quando cacchio, vai a lavorare, perché se il tampone, ti dura una settimana, fai il tampone, una volta alla settimana, ti organizzi, e vai a fare il tuo tampone, ma se ti dura un giorno, e tutti i giorni, devi fare il tampone, prima di andare a lavorare, quando ci vai a lavorare, che devi fare quattro ore, di coda, non puoi andarci, alle quattro del mattino, sono chiuse le cose, se tu inizi alle otto, voglio lo fai il tampone, quindi, disorganizzazione, esagerazione, che ci vanno anche quelli, che non ci dovrebbero andare, perché, ripeto, se abbiamo l'87% di vaccinati, è un 13% che non si è vaccinato, diviso in tutta l'Italia, 700 mila persone ad andare a fare il tampone, la miseria, l'altro giorno, c'era Diego Ligori, ha fatto il video, stava impazzendo, c'erano tutti in coda, per andare a fare il tampone, o andate tutti a vivere a Pavia, che sono due discoteche, 106 farmacie, adesso non so, Pavia, quanti abitanti abbia, ma con 106 farmacie, dove poter andare a fare il tampone, magari, in mezz'oretta, te la cavi, però dopo, se vanno tutti a vivere a Pavia, da 800 mila, non lo so quanti sono, diventano 3 milioni, diventa più grande di Milano, e siamo da capo, comunque, ragazzoli, fatemi sapere voi, cosa ne pensate, io ripeto, siamo in un paese democratico, se uno vuole vaccinarsi, ci sta, ripeto, preferisco però, una persona come Eller, che dice, i miei medici mi hanno detto, che è così, 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 quindi il tampone, il vaccino, non lo faccio, giustamente, piuttosto che uno che mi dice, me l'ha detto, il mio farmacista, lui ne sa, eccetera, eccetera, quando il mio farmacista, che è mio amico farmacista, che è laureato, mi ha detto, io il vaccino l'ho fatto, e mi sa che la mascherina, la dovremmo tenere per anni, 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 spero di sbagliarmi, ma mi sa che, ci dovremmo convivere, per parecchio tempo, in Cina, ci convivono da una vita, per lo sbog, noi ci conviveremo anche per il vaccino, detto questo, ragazzoli, io vi saluto, vi ringrazio, fatemi sapere cosa ne pensate, in maniera sempre educata, io ho detto la mia, poi ripeto, lascio la libera scelta a tutti, però ripeto, se uno fa una scelta, è giusto che poi ne paghi anche le conseguenze, e non rompa i testi, per la scelta che ha fatto, ogni scelta, dà luogo a qualcosa, purtroppo, come quelli che scelgono di mettersi con una ragazza, e tutti gli dicono, guarda che non è la ragazza per te, eccetera, eccetera, e poi ti viene a rompere le balle, perché non è appunto la ragazza, te l'avevo detto, e mi piace, e allora non rompere i coglioni, detto questo, ciao, Ciao!